La poltoncina che dialoga con il tavolo Sengu è una poltoncina che volutamente diventa da un lato molto sintetica e si rifà a una poetica degli anni 70, ma passandola a un morbido, un morbido questo tubolare che diventa bracciolo, nonché gamba e che cosa si avvicina nella parte posteriore in realtà non sono collegate, sono tenute soltanto dalla seduta. Tutto facilmente scorporabile dentro di una ottica di circolarità, ma anche non soltanto nel mondo che è montata e costruita, sino anche come è anche concepito lo schiumato che ha l'anima metallica anche scorporabile con un sistema credo un po' innovativo che abbiamo portato.